Buonasera e benvenuti al Correrino Tg, il telegiornale in streaming del sito www.ilcorrerino.com. In apertura del nostro notiziario siamo a Pompei, dove un immigrato cinese ha tentato di corrompere un finanziere dandogli appuntamento in un bar e porgendogli una mazzetta da 5.000 euro. E' stato arrestato. L'appuntamento era in un locale di Pompei, preso con una telefonata al cellulare, ha fatto scattare l'operazione. Il finanziere ha arrestato l'immigrato cinese che lo aveva contattato fingendo di chiedergli informazioni. L'uomo è accusato di tentativo di corruzione del militare, l'arresto è avvenuto nel bar di Pompei, luogo dell'incontro. Ad Ercolano, botte alla moglie per futili motivi, i carabinieri arrestano un trentenne. I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno arrestato un trentenne del luogo già noto alle forze dell'ordine. In casa aveva aggredito a calci e pugni la moglie di 29 anni per futili motivi, procurandole traumi in varie parti del corpo, giudicate guaribili in sette giorni. All'arrivo dei militari l'uomo si è dato la fuga ma è stato subito raggiunto e bloccato. Durante la denuncia la signora ha raccontato dei pregressi, episodi di violenza e di minaccia finora mai denunciati. L'arrestato, l'uomo, è stato trasferito nel carcere di Poggio Reale. Siamo adesso a Pomigliano dove riceveranno lo stipendio ma senza lavorare ed è quanto la Fiat ha comunicato ai cinque operai licenziati a giugno di due anni fa dallo stabilimento di Pomigliano e reintegrati in azienda da una sentenza della Corte d'Appello di Napoli. avevano esposto l'impiccagione di un manichino con le sembianze di Marchionne. Il gesto del manichino impiccato era stato messo in atto durante una manifestazione di protesta in seguito al suicidio di due colleghi che erano stati messi in cassa integrazione dall'azienda. Una situazione che ricalca per qualche verso quella venuta si è a creare nel 2013 con i 19 lavoratori iscritti alla FIOM per i quali la Corte d'Appello di Roma aveva disposto a novembre del 2012 l'assunzione dell'allora Nucofabbrica Italia Pomigliano e che per mesi furono pagati senza però poter lavorare. Cambiamo argomento, parliamo di sanità ed è un grande successo quello dell'iniziativa dei mesi della prevenzione contro il tumore al seno. Siamo quasi arrivati alla fine della iniziativa, vediamo com'è andata, ascoltiamo il dottore, il professore d'aiuto e il consigliere Alfonso Longobardi. Castellammare e Gragnano sono state le città che di più hanno aderito ai mesi della prevenzione. Presso il nosocomio gragnanese è stato stilato un bilancio a 20 giorni dalla fine dell'iniziativa che ha consentito a centinaia di donne under e over 40 di poter sostenere gratuitamente una ecografia al seno presso un centro convenzionato. Il professor d'aiuto, specialista in oncologia, precisa che la prevenzione nei casi in cui è stato registrato un problema più serio continuerà con altre fasi. Stiamo organizzando la presa in carico delle pazienti che durante questa campagna dovessero riscontrare la necessità di avvenire a intervento chirurgico come o per neoplasia mammaria, quindi per carcinoma, o per lesioni altamente a rischio. Il nostro obiettivo è cercare di operare rapidamente queste donne qui sul territorio avvalendosi però della competenza di medici che normalmente sono preposti alla cura di questa patologia su grosse strutture. Il successo dei mesi della prevenzione è già proiettato al 2017. Insieme ad Asla Napoli 3 Sud, associazioni e laboratori diagnostici, uno dei promotori dell'iniziativa, è stato il consigliere regionale Alfonso Longobardi. Dopo qualche settimana di lavoro abbiamo raggiunto già un numero elevatissimo, 250 ecografie prenotate, arriveremo a quota 400, abbiamo avuto dei dati diagnostici importantissimi. Ahimè la statistica parla chiara, già ci sono dei casi purtroppo positivi a queste indagini e adesso con la direzione generale stabiliremo qual è lo step successivo per portarle in sala operatoria. Queste donne risolvere un problema, ahimè, brutto. Siamo agli eventi, Sorrento giunge alla nona edizione e la rassegna mi illumino d'inverno che da novembre a gennaio propone appuntamenti con grandi nomi della musica internazionale, spettacoli teatrali di danza, eventi d'arte, incontri con il cinema, percorsi enno gastronomici, momenti di intrattenimento e di folklore, naturalmente iniziative dedicate ai bambini. Il cartellone prenderà il via il prossimo 19 novembre con l'accensione delle luminarie che vestono Sorrento a festa per l'arrivo del Natale, mentre l'accensione dell'albero è prevista per il 25 di questo mese. Grandi nomi che caratterizzeranno questa Kermess come Irene Grandi, come Alice e poi ancora con le giornate professionali del cinema di Sorrento, con il meglio del jet set del grande schermo italiano che arriverà appunto a Sorrento. Questa sera a proposito di eventi invece al Super Cinema ci sarà Maurizio Casagrande con il suo spettacolo e la musica gira intorno a me. Casagrande attraverserà circa 50 anni di musica italiana e internazionale usando le canzoni come interruttori. E infine la Juve Stabia, siamo allo sport, sono finiti tutti i 500 biglietti a disposizione dei tifosi gialloblu per Casertana Juve Stabia che si terrà domenica al Pinto alle ore 18.30. La Commissione Provinciale di Vigilanza però valuterà la possibilità di aumentare ad altri 300 posti la possibilità per altri 300 stabiesi di vedere la loro squadra capolista giocare contro la Casertana. Inoltre la Juve Stabia comunica che si consiglia di seguire il seguente percorso per i provenienti dall'autostrada Salerno-Napoli e quindi proseguire in direzione Roma, uscire a Santa Maria a Capo a Vetere e di mettersi sulla variante Anas strada statale 700 in direzione Caserta e uscire a Caserta Stadio. Io vi ricordo che l'approfondimento di tutte queste notizie contenute nel Tg le troverete sul sito www.corrierino.ilcorrierino.com, cliccate, condividete e mettete mi piace alla pagina Facebook. Il telegiornale tornerà la settimana prossima ancora alle 18.30. Grazie e buon fine settimana.